Ma dirò di più! Ora tutti gli italiani dai 18 ai 60 anni verranno addestrati, si armeranno e verranno a combattere al vostro posto. Sendo conto che ancora troppo poco, tutti i soldi del PNRR in armamenti. Donne, donne, è arrivato il premierino che dice entriamo in guerra col Cremlino. A noi? A noi ha chiesto solo io? A noi sì. Ma non possiamo chiedergli di parlare chiedendoci qualche atomica?